Senta, ma lei Montanelli, perché votò monarchico? Io votai monarchico non per un re, sebbene fossi convinto che Umberto sarebbe stato un eccellente re, molto migliore di suo padre. Io votai per l'istituzione, perché quell'istituzione rappresentava l'unico capitolo di storia nazionale italiana, parlo di storia nazionale, l'Italia aveva una grande storia, per esempio culturale, che risaliva al tempo delle signorie, ma non era nazione allora. Lei lo intende come nazione. Come nazione. Perché il risorgimento... Il risorgimento che è l'unico capitolo di storia nazionale, anche se è stato adulterato dalle bugie di certi sacerdoti del risorgimento, i quali hanno creduto di poterne ricostruire un altro non vero sulla retorica, malattia italiana, eccetera, eccetera. Però, però, l'Italia non c'è dubbio che fu fatta dai Savoia. Dai Savoia con loro piccolo e antiquato ma serio esercito e soprattutto con la sua diplomazia che in mano a Cavour seppe legare ai destini dell'Italia, le potenze dell'Occidente, eccetera, eccetera. Quindi, l'Italia è stata fatta male, ma è stata fatta nell'unico modo in cui si poteva fare. E quindi lei difendeva questo? E io difendevo questo.